per tutto il meglio o il peggio di me calcio di punizione per i rossoneri fallo netto del snorrizzo per me la più fallo per l'altro zona d'attacco dalla destra se Saltelli insegna Balotelli Tiziano non reagire alle provocazioni ma figurati se reagisco vinco 3 a 0 e reagisco ma ci penso di me per fortuna che lui dice di saper vincere visto che ogni gol che fa ci mette in mezzo voglio dire infierisce no non infierisco sono un po' estumatore lo sai ti voglio bene non è molto simpatico stai vincendo un po' di stile ti voglio bene come dici tu devi avere rispetto non ho problemi vinco 3 a 0 e non ti curare di loro ma guarda e passa vinco 3 a 0 e sto dietro alle loro piccole e infelice provocazioni c'è 15 punti dall'aiuto ma non esiste ne parliamo dopo siamo preoccupati della rimonta vai vai tutto il meglio o il peggio di me